Musica Viene proclamato beato e martire Luciano Votovassoa Viene proclamato beato e martire Luciano Votovasso Il testimone di Cristo, il dono e il nostro della vita, arrestato e ucciso per aver manifestato la sua volontà di rimanere fedele al Signore e alla Chiesa, rappresenta per tutti noi un esempio di carità e di fortezza nella fede. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.